Giudante da poche ore, lei non è più Presidente della TUA, è stata un'esperienza importante per lei, un'esperienza che è coincisa anche con un periodo difficile con la pandemia. Il bilancio dell'ex Presidente della Società Unica di Trasporto Regionale qual è? Beh, è un bilancio esaltante, devo dire. Tre anni, tre bilanci in attivo, centinaia di assunzioni e la formazione di una classe dirigente di primo ordine. Se questi risultati si sono potuti ottenere ritengo sia dovuto anche al fatto che TUA si sia dotato di persone competenti, importanti, che hanno saputo dimostrare quello che è il valore di una scelta manageriale che imbeste il territorio abruzzese, che è un territorio difficile, iperfrazionato, con comuni polvere e via di seguito. Sono certo che la TUA continuerà, proprio perché ha questa classe dirigente e un management ormai a livello nazionale, ad ottenere risultati importanti. Anche se debbo sottolineare che c'è stata un'invasione di campo per quello che riguarda il discorso di TUA, che avrà anche, per quello che riesco a capire, dei riflessi per quello che riguardano le elezioni prossime e venture. Invasione di campo di chi? Invasione di campo della politica in senso stretto, cioè di una politica che ha fatto delle scelte in funzione di quelle che erano le elezioni prossime e venture in termini politici. Faccio degli esempi così cercherò di essere abbastanza chiaro. Era evidente che nel momento in cui io, un anno fa, ho sbattuto la porta uscendo dalla Lega, avevo già messo in conto che non ci sarebbe stata una conferma nell'ambito della TUA. C'era però una richiesta ufficiale della Lega per quello che riguardava la presidenza, quella di Riccardo Chiavaroli, o in subordine c'era la richiesta di una proroga per far finire le elezioni. La regione Abruzzo ha inteso dare una rasoiata alla Lega, nessuna delle sue richieste è stata accolta, si è proceduto a creare un consiglio di amministrazione che ha tenuto conto di quelle che sono, come dicevo prima, esigenze elettorali, tanto ciò è vero che per esempio nessuno di Pescara è rappresentato.